buongiorno nuovo appuntamento con la rubrica il medico risponde siamo all'ospedale di cremona per incontrare il dottor claudio cavalli direttore dell'unità operativa di pediatria buongiorno dottor cavalli vorremmo parlare di bronchiolite di cui si sente spesso parlare a proposito dei bambini piccoli di che cosa si tratta buonasera cinzia bronchiolite è una infiammazione delle piccole vie aeree quindi dei bronchioli che sono i tubicini che portano l'aria nel polmone successivi ai bronchi e essendo bronchioli la loro infiammazione viene definita bronchiolite se io prendo un tubo dove deve passare aria e questo tubo ha un piccolo calibro l'ingresso dell'aria è estremamente difficoltoso alterato e anomalo rispetto a quelle che sono le necessità del bambino c'è una questione di meccanica polmonare nel senso che molto semplicemente mentre un adulto quando respira profondamente espande la parte superiore del torace i bambini piccoli sotto i due anni di vita tendono a espandere la parte bassa del del torace quindi quella verso il diaframma l'infiammazione di questa parte caudale questa parte in fondo delle vie che trasportano l'aria quindi l'ossigeno porta una grave e importante difficoltà respiratoria quali sono i sintomi come si arriva alla diagnosi la diagnosi è un punto di arrivo in questo tipo di malattia perché la malattia ha tipicamente un andamento evolutivo si parte di solito con un raffreddore piuttosto banale che dopo 48 72 ore tende a diventare una difficoltà respiratoria e cominciamo ad avere bambini che respirano 70 75 80 volte al minuto quindi proprio una polipnea molto evidente quando il bambino comincia ad andare un po più in difficoltà si può arrivare anche ad avere un bambino conciannosi alcuni casi gravi finiscono anche in rianimazione le terapie sono cambiate notevolmente negli ultimi vent'anni fino a vent'anni fa si usava anche 22 si usavano cortisonici che oggi si è dimostrato non servire assolutamente a nulla in casi selezionati servono i broncodilatatori i classici farmaci per l'asma che fanno dilatare i bronchi e fanno respirare meglio ma in casi selezionati perché i bambini molto piccoli hanno pochi recettori i recettori sulle pareti dei bronchi sono come delle serrature il farmaco che noi diamo è la chiave che entri in questa serratura e faccia dilatare il bronco tipicamente il salbutamolo è il medicinale idoneo quindi essendoci una bassa concentrazione di questi recettori che sono i punti d'ancoraggio del farmaco per far dilatare il bronco chiaramente non sempre sono grandemente efficaci mentre nel bambino di 6 7 anni con l'asma prende il suo broncodilatatore e tende ad avere un beneficio quasi immediato ha una stagionalità questa malattia fra noi pediatri si dice colpisce da novembre ad aprile in realtà poi c'è un minimo di tolleranza potrebbero alle volte le epidemie partono da metà ottobre e terminano magari ai primi giorni di maggio molto dipende da come si comporta il meteo e di conseguenza i virus e di conseguenza le malattie dei bambini è quasi impossibile per non dire impossibile avere una bronchiolite in giugno in luglio in agosto questi mesi grandemente estivi mentre c'è una grande variabilità da anno ad anno per esempio noi di cremona abbiamo portato un contributo scientifico al congresso nazionale della società di malattie respiratorie infantili dove abbiamo visto che c'è una dimostrazione statistica che da quando è comparso il coronavirus la bronchiolite non è che si sia abbassata è praticamente scomparsa noi sono circa due anni quasi 20 mesi 19 mesi che non vediamo bronchioliti ma questo è vero a cremona è vero a brescia è vero a bergamo ma è vero a roma ed è vero in sicilia noi ce lo siamo spiegato per lo più con la scarsa circolazione del virus il virus respiratorio sinciziale responsabile della bronchiolite è un virus che circola per via respiratoria girando tutti con la mascherina tenendo il distanziamento avendo passato periodi lunghi di lockdown non ci sono stati o praticamente pochissimi casi di bronchiolite rispetto agli anni precedenti una cosa importante oggi come oggi proprio perché non c'è un farmaco che si tende ad utilizzare tipicamente nella bronchiolite perché di fatto la cosa che serve di più è l'ossigeno perché il bambino fa fatica a tirare dentro ossigeno e la cosa più importante il farmaco più importante è l'ossigeno da dare in maniera supplettiva ci siamo attrezzati anche noi qui a cremona in pediatria per avere delle macchine che aiutano a erogare ossigeno in maniera più appropriata sono macchine cosiddette per alti flussi che sono la tipica il tipico approccio al bambino che fatica moltissimo a respirare durante la bronchiolite ed è secondo noi un'ulteriore modernizzazione della pediatria di cremona una nota di preoccupazione un po negli ambiti pediatrici ce l'abbiamo tutti parte un po da studi epidemiologici partiti dal bambino gesù di roma dove purtroppo c'è un'attesa preoccupante mancando la circolazione del virus respiratorio sinciziale da circa due anni abbiamo detto abbiamo molto timore e gli epidemiologi ci hanno già fatto alzare le antenne che ci sia una scarsa circolazione anche di anticorpi contro il virus respiratorio sinciziale il timore grosso è quello di avere un'epidemia da virus respiratorio sinciziale particolarmente importante nell'inverno già 2021 22 e ancora anche nel 2022 2023 sapete che gli epidemiologi lavorano con i numeri con i grandi numeri big data non è solamente una parolaccia per insultare le major dell'informatica ma è una metodologia di studi epidemiologici e quindi si guarda avanti anche di 12 anni che si guarda avanti anche di 12 anni